Un muro, insomma, cioè un portone. Un portone, eh, sì. Lo stipite di un portone. Accompagna la fidanzata la sera, si appoggia. Buonanotte, che era, buonanotte, amore. Che bello dormi così, eh? Cioè, perché come, come? Beh, facciamo un bacino. E basta? Perché dove va? E noi facciamo qualche cosa. Ma il senato qui, stiamo in mezzo alla strada. Beh, ma è l'una di notte, non passa nessuna. Fiamo qualche cosa. Ma che vuoi? Ma che sei sci? Una cosetta più, no, ma che sei spogliato. Ma che sei, ma tu sei... Eh, no, ma che sei un'ora. Vanno avanti un'ora così, e lei non vuole, e lui vuole. Certo, uno si affaccia a uno dal primo piano, poveraccio. Tutto sudato, tutto scapiato, un canottiere. E fa, dice, senti, eh. Te manno giù mi moglie, ma lei va la mano darci dopo. Grazie. 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 T'abbiamo.